Ho creato l'app Mazzarà e ringrazio l'amministrazione comunale per aver concesso il patrocino gratuito per fornire al cittadino mazzarese una visione più completa della propria città. È geolocalizzata, quindi permette anche al turista di trovare tutte le attività che ruotano attorno a lui, poiché fa dell'utente il punto di riferimento focale. E agli abitanti dei paesi limitrofi per dare la possibilità di individuare più facilmente attività commerciali o liberi professionisti o agenzie di cui dovessero bisognare. È un'app che dedico a tutti i cittadini e ringrazio nuovamente l'amministrazione comunale. Grazie 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 Grazie